Il social network, il web, è da sempre una vetrina importante per i commercianti. Oggi lo è diventato ancora di più, quindi questo progetto va proprio in questa direzione? Va proprio in questa direzione, sin da quando è nato, a fine pandemia, dove abbiamo aperto commerciantiarezzo.it, che era una vetrina. Con il tempo e con il ritorno del Covid l'abbiamo sviluppato e abbiamo inserito anche un commercio elettronico, una specie di villaggio commerciale, virtuale, che abbiamo chiamato Arezzo Shopping e che è raggiungibile a shop.commerciantiarezzo.it, nel quale l'utente finale, il consumatore, può trovare aziende aretine, negozianti aretini, che offriranno i loro prodotti. Una specie di Amazon di casa nostra. Come possono accedere le varie realtà? Ecco, l'adesione, ci sono vari gradi di adesione, che sono piani di adesione, chiamiamoli così, che sono disponibili nel nostro sito commerciantiarezzo.it e poi grazie all'interessamento di Confesercenti, con il quale abbiamo stipulato un accordo, i loro associati avranno delle opportunità per poter aderire alla nostra vetrina e al nostro portale di commercio elettronico a delle condizioni veramente di favore. Quindi grazie a Confesercenti c'è anche un'opportunità in più per il commercio di Arezzo. La politica dei prezzi, secondo voi, è un qualcosa che deve essere ritoccato, rivisto, perché purtroppo chi sceglie di commercio, chi lo sceglieva anche prima della pandemia, lo faceva non tanto perché ci fosse l'obbligo di non andare fisicamente in un negozio, quanto per purtroppo, dico io, a volte una convenienza effettivamente maggiore. Ecco, su questo si può riuscire ad intervenire, posto che ovviamente si deve comunque sostenere il commercio locale? Sì, allora, secondo me il discorso del prezzo è un discorso che orienta l'acquisto solo in alcuni casi. In realtà il commercio elettronico risponde anche a tante altre esigenze, a mancanza di tempo, alla necessità di voler vedere contemporaneamente tante vetrine senza perdere il tempo di dover andare in giro, alla necessità di un assortimento immediato sul telefonino. È chiaro che il prezzo ha il suo significato, ha il suo ruolo, e quindi chiaramente i commercianti che vorranno aderire sia con la funzione della vetrina, sia con la parte del commercio online, dovranno porre attenzione alle loro politiche di prezzo. Quindi magari avere soprattutto alcuni prodotti, magari a dei prezzi vantaggiosi rispetto al catalogo complessivo. Però credo che in realtà sia uno strumento che non si basa solo sul prezzo. Ecco, si acquista anche perché magari la sera ci si trova sul divano e si guarda il telefono e siamo curiosi e andiamo in quella direzione senza dover aspettare il negozio aperto fisicamente. Ecco, come fanno i grandi colossi? Come raggiungerete, diciamo, il cliente finale? Con una politica speciale sui social network, sul web, sui vari strumenti che oggi la rete ci offre? Esattamente. La cosa più importante di questo progetto è che sia chiaro che non solo si mette a disposizione della piccola attività locale, un portale digitale, che deve essere visto come una risorsa, non come un competitor, come magari era visto prima. I canali a disposizione sono i principali player di mercato, come social network, come Instagram, Facebook e tutto quello che è la messaggistica istantanea, che potrebbe essere una risorsa importante per gestire le vendite on-offline. Allo stesso tempo, anche lo stesso portale e i siti, qualora si siano a disposizione delle varie attività, possono rappresentare un momento in cui le persone e gli utenti vanno a vedere quello che può essere disponibile e in un modo in cui può essere ampliato il business di riferimento.